il limone è un nostro alleato in cucina anche per la pulizia il limone è un disinfettante è un prodotto naturale e vediamo adesso come abbiamo qui un mezzo limone che ci può essere molto utile il momento in cui noi cuciniamo e tagliamo dei carciofi che immediatamente a contatto con l'aria anneriscono e invece il nostro limone eviterà questo processo facendo così semplicemente immergendoli in una vaschetta con dell'acqua avremo i nostri carciofi verdi inoltre il limone ci diventa estremamente utile per disinfettare i taglieri dopo che li abbiamo usati o addirittura anche per sbiancarli se tagliamo in un tagliere comunque dei pomodori o anche del pesce rimarrà talvolta il colore e talvolta l'odore il limone può essere usato ovviamente anche nei taglieri di legno un'altra caratteristica del limone è quello di aiutarci a pulire le grattuge nella grattugia solitamente rimangono sempre dei pezzetti di formaggio che velocemente possono essere levati e anche come per il resto l'odore del formaggio questi sono alcuni degli usi del limone per la pulizia in cucina ma vediamone un altro divertente quando abbiamo dei gioielli dorati d'oro che comunque possono opacizzarsi o magari scurirsi perché rimangono chiusi nei cassetti il limone ci dà una mano spremendone un po e mettendone in un panno morbido in questo modo la soluzione di limone e magari anche un pochino di acqua ci permette di strofinare con forza ma anche delicatamente il nostro gioiello in questo caso come potete vedere diventano subito splendenti una volta utilizzato il vostro limone non buttatelo via mettetelo all'interno della lavastoviglie e per tre o quattro lavaggi darà un profumo e una fragranza a tutte le vostre stoviglie una soluzione c'è sempre